ha messo ieri non devi scherzare facciamo molti taschi ma se no questo mi entra in campo e inizia a far giocare che mi voleva registrare è come i bambini devi far fare qualcosa che cos'è l'SF? russa credenziamo credenziamo ah non ho letto beh ciccio non ho letto non ho letto 2, 6 No, no, no. il cartellino 5-2 No ma c'è l'intervento i donne loro che vedono l'elettro. No? No ma c'è l'intervento. 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 Si vede da fuori.